ciao ragazzi mi trovo sempre qua a vigiù ma questa volta in località bevera mentre stavo venendo di qua dopo aver visto l'antico convento con la chiesetta di san siro ho trovato questa vecchia cascina abbandonata e adesso proviamo a vedere se riusciamo entrare vi auguro a tutti una buona visione si inizia inizia l'esplorazione Una vecchia cascina dismessa qua in zona Bevera, a Vigiu. Vediamo un po', allora, iniziamo a vedere se riusciamo a infilarci dentro. Allora, questa è sempre la parte esterna, eh, di questa vecchia cascina, ok. Vediamo se c'è qualche porta aperta per imbucarci. Chiusa, chiusa, niente. Vediamo se troviamo un modo per entrare da qualche altra parte, eh. Visto che per ora da qua non siamo ancora riusciti. Ok. Sto facendo vedere un po' l'esterno di questo vecchio cascinone abbandonato. Allora, vediamo se riusciamo a entrare da qua, eh. E' destino che mi devo fare sempre la parte di sterpaglia. E vabbè. Eh. Allora. Vediamo cosa c'è, la rete. Ok. Anzi neanche la rete era una catena. l'abbiamo sorpassata. Vediamo un po' qua cosa c'è. Vediamo cosa troviamo. Ok. Poi qua c'è un'altra parte da fare, ma vediamo se riusciamo. un po'. Vediamo un po'. Mamma mia. Cosa non c'è qua? Ragazzi. Eh no. Qua la vedo molto dura, eh. Molto ma molto dura. Questa era il garage. che ormai è mezzo sepolto qua. Da erbacce, da tutto quello che c'è attorno. Questo era un piazzaletto. Ok. Da qua riesco a farvi vedere un po' questa parte. Aspettate un attimo che non ho visto una cosa. Ma... Sarà sicuramente chiusa anche questa, eh. Senza ombra di dubbio. Figuriamoci. Senz'altro. Chiudiamo. È chiusa. stavolta. Stavolta la fortuna non è dalla mia parte, ragazzi. Di lato si sente il rumore del fiume. Che scorre. Andiamo qua. Andiamo indietro. Peccato. Peccato. Peccato veramente perché mi sarebbe piaciuto farvi vedere questo cascinone. E purtroppo è così. Non sempre può andar bene, eh. ci sono anche le volte che purtroppo non si riesce a entrare. Vi faccio vedere un po' il fiume. Ok. Va bene. Niente. Torniamo indietro. Ragazzi. Torniamo indietro. Qua mi sembra di essere in una foresta. Mamma mia. Mamma quante erbacce. Anche qua. Va bene. Dai. Fa niente. È andata così. Pazienza. Adesso rifacciamo la parte qua. Nulla. È andata male. Va bene. Va bene. dai. Niente. È andata male. È andata male. Purtroppo è andata male. Torniamo indietro. È nulla. Aspettate che qua c'era il sentierino. No. Almeno quello. Perché poi qua. Non c'erano porte. E no. Va bene. Dai. Niente. Niente. Vi ho portato a vedere questa cascina abbandonata. o perlomeno quello che rimane. Purtroppo qua. Non c'è. Alcun modo di entrare. Qua c'era questa porta ma. È chiusa. Qua. Qua. Buchi per passare. Non ne ho trovati. E quindi. Niente. Dai. Torniamo indietro. E quindi. Niente. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ok. Ciao ragazzi. Ragazzi. Che dire. Volevo farvi vedere questa vecchia cascina. Ma non sono riuscito. Non ho trovato un modo per entrare. Purtroppo queste sono cose che. Per chi fa l'urbex. Come me. Possono anche capitare. Non sempre detto che può andar bene. E come non sempre detto che. Riesci a trovare un passaggio. O magari c'era. Io non l'ho visto. Non lo so. Comunque. Io ho girato bene attorno. In tutta la cascina. Come avrete avuto modo. Di vedere nel video. E non ho trovato nulla. Vabbè. Che altro dire. Vi saluto. E vi mando. Alla prossima esplorazione. Ciao belli.